La sensazione comune è che nel tentativo di allentare il clima di tensione intorno a sé la proprietà abbia centrato l'effetto opposto alimentando ulteriormente lo scetticismo e l'indignazione della piazza. La videoconferenza di ieri pomeriggio si inserisce perfettamente nella tragicomica trama di una vicenda societaria che con l'originale happening telematico è andata ben oltre le pessimistiche previsioni aspettative anche di chi sin dalla scorsa primavera aveva intuito quale piega avrebbe preso il futuro giallorosso permanendo gli attuali equilibri proprietari. Già la semplice e fugace convocazione dei giornalisti da parte della società per un intervento fiume via web di un semplice potenziale acquirente rientra di diritto nel lungo elenco delle cose mai viste che i messinesi devono alla CR di Stracuzzi e Company. La singolare autocelebrazione dell'avvocato Massone, i generici proclami che più generici non potevano essere, i documenti contabili pervenuti soltanto ieri dieci giorni dopo la conferenza stampa nel corso della quale il presidente e gli altri soci avevano dato per certo il raggiungimento di un'intesa e l'imminente insediamento di chi fino a ieri non aveva neanche adocchiato il bilancio, altro che due diligence. Una situazione paradossale e angosciante dai tratti kafkiani di fronte alla quale resta forte la presa di posizione della tifoseria organizzata che nelle prossime ore tornerà civilmente alla carica per far sentire le proprie ragioni. Forte il no al gruppo laziale come la consapevolezza dell'impossibilità di proseguire con questa proprietà fragile finanziariamente e abile come pochi negli autogol.